Buongiorno ragazzi, sono Giacomo, diventerò un minore in 5 anni. Oggi facciamo un episodio un po' diverso, sono le 18.52, tra l'altro ringrazio per chi ha chiesto nel gruppo Telegram se oggi usciva il podcast o se non usciva, perché mi fa sempre piacere sapere che c'è qualcuno che attende questi nuovi rilasci. In realtà, purtroppo, fino a oggi, quindi siate contenti da lunedì si riprende l'ordinaria programmazione mattutina. c'è il fastidio, non il fastidio, ma la situazione particolare di avere la bimba a casa dall'asilo, perché non c'è asilo fino a lunedì, di conseguenza bisogna organizzarsi un po' ogni giorno come si riesce a fare. Io oggi mi sono organizzato male, perché mi sono svegliato, in realtà neanche troppo tardi, però non l'ho fatto, quindi mi trovo adesso a farlo, ma non è un problema perché avevo già dichiarato a me stesso che nell'eventualità avrei fatto una camminata, infatti adesso sono in mezzo ai boschi, se sentite c'è un ruscello qua, forse lo sentite? Sì, questo è veramente un excursus timido, perché è il classico episodio timido dove ti fa sentire, ti fa vedere i passaggi nei quali si trova. Comunque, vabbè, tornando a noi, avevo già dichiarato questo slot come slot nel quale avevo registrato il podcast, infatti siamo qua, sono Alfredo Algelo perché ho sbagliato totalmente, Giacomo, non c'è problema. E in realtà sono stato più bravo del previsto, perché non mi ricordavo neanche che oggi ho lavorato, ho scritto un articolo oggi e mentre lo scrivevo ho detto, beh sì dai oggi parlo di questo nel podcast e sono andato a creare già l'episodio e ho messo anche il titolo, quindi in realtà so già di cosa parlare oggi, però prima voglio dirvi una cosa interessante, perché? Perché adesso sono in un sentiero totalmente buio, cioè è illuminato solo perché c'è la luna piena adesso, quindi si vede, ma se no sarebbe completamente buio. È vicino a casa dei miei, quindi lo conosco benissimo e ci vado senza nessun problema, però qual è il limite? Adesso tratta appunto il vicolo abbandonato, però passano le macchine. E in ogni caso, qual è il problema? Questo vicolo buio mi riporta alla mente una cosa che ho detto già in un podcast, ma parecchi anni fa, quindi probabilmente molti di voi, se siete novelli ascoltatori, non l'avete sentita, ma probabilmente anche se l'avete già sentita ve l'essete dimenticato e me la ricordo perfettamente perché l'ho vissuta, quindi quando colleghi l'emotività a un racconto è ovvio che questa cosa si associa e funzioni benissimo, però vi racconto quello che è successo, è successo che stavo correndo, era nell'epoca nel quale correvo per allenarmi a una maratona e mi dovevo fare la pipì, vabbè succede, quando esci per correre per due ore ci sta che tu debba farla, era sera, quindi era inverno perché era sempre novembre, adesso siamo a gennaio però comunque era sera, ho detto beh vado in quel vicolo lì, era un vicolo che sembrava illuminato, ho visto da fuori, ho iniziato a correrci dentro, ho fatto 50 metri, 70 metri, 80 metri, sembrava di essere sempre alla luce, perché non lo so perché comunque corri dentro, ti sembra adesso sempre la luce, ho fatto quello che devo fare, e poi mi sono girato, beh ragazzi mi sono cagato in mano perché ho detto cazzo ma quanto dentro sono andato, quanto nel buio sono andato e questa cosa mi ha fatto riflettere molto sul fatto che è un po' come una metafora della vita, cioè quando tu inizi a dire sì a qualcosa che non vuoi fare, che senti che sei sbagliato, poi dici vabbè cosa vuoi che cambi un sì, un sì è come un passo verso una strada buia quando al di là c'è la luce, tu fai un passo e dici vabbè c'è ancora luce, fai un passo e vabbè c'è ancora luce, poi alla fine arrivi un momento nel quale ti giri e dici quanto cazzo in là mi sono spinto in questa strada buia, cioè adesso come faccio a tornare indietro, c'ho paura, quindi quello che voglio dire in questa riflessione è che ragazzi se c'è qualcosa di pauroso che sentite sbagliato nella vostra vita, mi dite vabbè cosa vuoi che cambi un sì lo dico così non vi rompo i coglioni, no cioè non fatelo perché è un passo verso una strada sbagliatissima, che poi sì, un sì, un altro sì, un altro sì ancora, vi rendete conto che avete fatto una cagata dietro l'altra e c'è il classico punto in cui vi chiedete ma come cazzo ho fatto ad arrivare qui, perché? perché ho fatto quella scelta lì, ho fatto quell'altra scelta, no no in realtà il problema più grande è il primo sì, quello che è più facile da dire, quello che è più difficile da negare, però in realtà il problema parte tutto da lì, quindi quando qualcuno vi chiede qualcosa che è chiaro che voi non vogliate fare, perché è chiaro che sì è legale o chiaro che non avete cazzi di farlo, il sì è la scelta più sbagliata possibile perché vi mette in una posizione scomodissima e soprattutto quando dite sì una volta poi dire no dopo è veramente un casino, quindi attenzione a quello che fate, attenzione a quello che dite perché un passo in una strada buia è difficile, è difficile da cambiare e poi fate sì 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 sì, vi ritrovate nella merda, quindi questa è la prima riflessione di questo episodio ragazzi, adesso faccio un segmento perché mi si sta congelando la mano e poi riprendo a registrare. Ma adesso passiamo all'argomento principale dell'episodio, però prima devo veramente dirvi una cosa ragazzi, cioè sto camminando mentre registro il podcast, oh c'ho un fiatone assurdo perché la camminata in sé non richiede tanta energia, però il parlare e il pensare veramente ti fa andare in affanno, in tempo azzare, infatti se sentite ho una voce, una respirazione totalmente diversa dal solito che lo registro quando sono seduto, quindi quando sentite dei blog di persone che vanno in bici, dei vlog di persone che vanno in bici, dei podcast, anche il podcast è il timido, cioè ragazzi solo rispetto per il timido che riesce a registrare mentre cammina, cioè come cazzo fa? Come cazzo fai timido? Cioè è impossibile, io c'ho il fiatone e se non in pratica sto camminando a 0,5 all'ora fra un po' mi giro e cammino indietro che sto, che faccio meno fatica ancora, veramente assurda come cosa qua, perché tu li ascolti, cioè che cazzo fai, che fisico c'hai per non riuscire a parlare e camminare, invece è un casino, è un casino incredibile, insomma detto questo andiamo all'argomento principale, quindi le tue priorità perché? Perché io sto continuando a leggere il potere del cervello quantico, ieri stiamo aggiungendo al punto, al punto fondamentale e la domanda che ti fa a un certo punto è dire ok, tu cosa vuoi? Di il tuo nome e di quello che vuoi, quindi io sono Giacomo e voglio fare questa cosa, ma qual è questa cosa? Io lì ragazzi mi sono incastrato, cioè non sapevo più cosa dire perché, perché ne ho troppe, in realtà lui ti dice che puoi decidere fino a tre, però secondo me tre sono troppe perché più ne metti, più condizioni metti per fare questo gioco a livello mentale, più si complica e si allunga il percorso, quindi io ne scelgo una sola e ho detto quale cazzo dico? perché ero deciso tra tre in realtà, cioè tra il fare sì che il blog vada bene e venga seguito da un sacco di persone, la seconda ovviamente è la libertà finanziaria, la terza è il fatto di essere in forma, queste tre cose sono i miei obiettivi principali per quest'anno, in realtà per tutta la vita, quindi no il blog in realtà non per tutta la vita, però per quest'anno sì, quindi sono andato a letto che non sapevo ancora come rispondere a questa domanda qua, tant'è che a un certo punto ho detto beh, mi metto a letto e inizio a rifletterci un po' perché devo capire meglio qual è il mio obiettivo e il fatto che non sappia qual è il mio obiettivo un po' mi mette a disagio, meglio bene, bene che me l'abbiano chiesto perché mi fa capire che non ho ancora le idee chiare, alla fine dopo aver fatto diverse riflessioni ho capito che il mio obiettivo principale, cioè perché c'è il blog, per arrivare ai soldi, bello tutto però alla fine l'obiettivo è quello, se io fossi libero finanziariamente fare il blog, boh sì no, non è detto che lo faccia perché bello mi piace però anche no, fare volentieri altro, quindi diciamo che la cosa principale, fondamentale è la libertà finanziaria che è stata quella alla fine che mi ha portato a fare tutto questo percorso quindi la mia priorità alla fine è quella, però è stato interessante il fatto di capire che tu devi fare delle scelte nella vita non puoi dire ok voglio questo, però voglio quello, però voglio arrivarsi in questa strada qua, no lascia che il destino ti porti un po' dove vuoi però devi avere una priorità in mente ben chiara vuoi essere ricco, vuoi avere un blog che funziona, vuoi essere in forma, qual è la tua priorità numero uno io su questa cosa ragazzi sono contento che mi sia stata chiesta perché non l'avevo assolutamente chiara nella mente quindi benissimo così, grandissimo libro di pentimali, il portale del cervello quantico però vorrei sapere anche da voi, scrivetelo sul gruppo telegram, vi lascio il link in descrizione se avete chiare bene le vostre priorità, se non ne avete oppure se ne avete ma non sono chiare perché appunto anche questo è interessante per discutere, per capire dove stiamo andando perché alla fine tu dici sì sì è ovvio, è ovvio che io stia andando, benissimo ma finché non lo dichiari a te stesso, finché non lo rendi esplicito, finché non ne parli è chiaro ma fino a un certo punto magari è chiaro nella tua testa poi quando inizi a parlarne capisci che è molto fuffoso sì forse quello però forse quell'altro quindi il concetto fondamentale ragazzi, la priorità numero uno è avere le idee chiare capire ok io voglio fare questo, 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 questa è la mia priorità punto e basta se voi siete a questo punto sappiate che molto probabilmente siete più avanti di me nel percorso di capire quali sono i vostri obiettivi comunque per fortuna sono riuscito a chiarirmi questa idea adesso inizia il mio percorso verso l'utilizzo del cervello quantico però è stato interessante vedere che in realtà dopo cinque anni, dopo cinque fottutissimi anni ancora non avevo le idee chiare e ieri sera sono stata una nottata a chiedermi ma io cosa voglio veramente? quindi adesso la domanda che vi rilancio è ma voi cosa volete veramente? una risposta assolutamente valida fatemela sapere nel gruppo Telegram, vi aspetto lì ciao ciao eccomi qua ragazzi sono tornato seduto quindi sono adesso con tutto il fiato a mia disposizione giusto per fare due riflessioni finali ovvero chi mi segue da più di due anni sicuramente si ricorderà gli episodi di dicembre 2020 dicembre 2020 dove lavoravo come una merda e rilasciavo gli episodi del podcast la sera erano non tutti eccezionali penso quindi ecco se vi ricordate in che condizioni ero fatemelo sapere sempre sul gruppo Telegram perché mi fa morire da ridere a ripensarci ancora dei ricordi collegati a quando registravo determinati episodi in che punto della strada di ritorno verso casa mi trovavo quindi per dirvi quanto è forte l'associazione emozione-azione quindi bello così altra cosa ragazzi interessante vi dico che ho utilizzato bitter e feel per comprare un buono amazon da 250 euro quindi ho fatto tutto cioè mi sono registrato non serve il che voi si fino a 10.000 euro al giorno non serve fare il che voi si quindi fantastico mi sono registrato solo con la mail ho fatto questa cosa qua tra l'altro io ho a leggere quindi ho toccato a leggere ho mandato i fondi eccetera ho comprato un buono amazon da 250 euro in 10 minuti ho fatto tutto inserito e via andare quindi veramente è una figata incredibile se volete sapere come funziona vi lascio il link in descrizione all'articolo che ho scritto passo passo su come fare per farlo c'è anche un codice referra che onestamente a voi non dà un cazzo e a me dà 5 dollari se voi ne spendete 50 quindi se volete registrarvi e fare gli affari vostri andate subite le file e vi registrate se no trovate sull'articolo il mio codice referra le potete contribuire in piccola parte al mio progetto detto questo ragazzi ci sentiamo domani no ci sentiamo lunedì finalmente la mattina ciao